dominio catturate e difendete le posizioni prendiamo alfa alfa in mano nostra mi attaccano granata partita interviene rtg ricarico ricarico ricognizione aerea qui jaguar 3-0 confermato fattugliamento uav iniziato su bravo attenzione ricarico attacco a grappolo pronto a lancio bravo in mano nostra bersaglio indicato procedere qui loader 2-0 attenzione uav in rientro forzato per fare rifornimento ricarico la squadra presso alfa aiuta la squadra presso abbiamo perso a prendiamo c ricarico 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 partita! Abbizio dalla squadra presso ricarico i nemici hanno preso Charlie personale nemico stato qua a grappare abbiamo perso Alfa intervieni su Bravo ne prendiamoci occhio siamo alleati abbiamo preso Charlie ti copro io attacco a grappolo pronto a lancio nemico in volo ne controlliamo due prendiamo Alfa ricarico qui Jaguar 3-0 confermato torretta robot nemica perdiamoci qui Loader 2-0 ricevuto attacco a grappolo in i nemici hanno preso Charlie siamo su Alfa attendere siamo a metà strada combattere abbiamo preso Alfa UAV alleato in sorbolo attenzione UAV in rientro forzato per fare riferimento nemico via principale abbiamo due obiettivi i nemici prendono Bravo UAV in zona pronto al sorbolo UAV alleato in sorbolo avvio qui Jaguar 3-0 confermato battugliamento UAV iniziato intervieni 2-2-B serve supporto ad Alfa grappolo pronto all'anima il loader 2-0 ricevuto attacco al grappolo in corso attenzione UAV in rientro forzato per fare riform- occhio siamo a teatro perdiamo A aiuta la squadra presso Alfa i nemici hanno preso Alfa siamo su Alfa a tendere hanno due obiettivi stiamogli addosso aiuta la squadra presso prendiamo A il nemico controlla tutti controlliamo Alfa stiamo prendendo Charlie nemico UAV nemico in volo controlliamo Charlie perdiamo Alfa prendiamo Bravo attacco a grappolo nemico i nemici prendono Alfa i nemici hanno preso Alfa e hanno preso il sorbolo avvio scansione radar stiamo prendendo Alfa radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno prendiamo prendiamo Bravo attenzione guardamento di precisione alleato in arrivo controllano due obiettivi riprendiamo UAB nemico in volo radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno nemico edificio distrutto siamo su Alfa a tendere nemico prendiamo B siamo alleati bravo al sicuro prendiamo Alfa nemico cantiere abbiamo tutti gli obiettivi perdiamo Charlie torretta robot nemica attiva abbiamo perso Charlie li abbiamo in pugno concentratevi nemico al centro attacco al grappolo nemico al riparo ne controlliamo due siamo in vantaggio spetta a a Grazie a tutti